Nelle prossime settimane il Parlamento lavorerà ad una legge sulla cittadinanza, ma i tempi per trovare il modello migliore per l'Italia si preannunciano lunghi. Lo ha detto il Ministro per l'Integrazione, Cecil Chienge, ospite della Camera del Lavoro di Firenze, che ha organizzato un incontro dal titolo L'Italia sono anch'io, proprio sul tema della cittadinanza. Anche perché, secondo il Ministro, la fotografia del Paese negli ultimi 25 anni è cambiata. All'inizio degli anni 90 noi avevamo poco più di un milione di cittadini di origine straniera, con 26 mila bambini nati da genitori stranieri. Oggi abbiamo circa un milione di minori sul suolo italiano che aspettano una cittadinanza e 650 mila bambini circa che sono nati addirittura sul territorio italiano. Numeri che ricalcano perfettamente anche la realtà toscana, dove 60 mila ragazzi nati da genitori stranieri stanno aspettando di diventare italiani a tutti gli effetti e ogni anno il 20% circa dei neonati negli ospedali della regione ha genitori che vengono da altri paesi. A tutte queste persone, in attesa di una risposta da parte della politica, si rivolge il comitato L'Italia sono anch'io, che ha riunito a Firenze sindaci e amministratori locali che hanno potuto così confrontarsi con il ministro Chiange. Quando il confronto si fa nel rispetto dell'altro, anche da parte di chi la pensa diversamente da noi, bisogna stare attenti a ascoltare e riuscire poi alla fine a trovare un modello che possa essere quello che rispecchia in questo momento la fotografia dell'Italia.